segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te non muove mi raggancio a quanto è stato detto finora ed è corretto in generale cioè non per quanto mi riguarda si intende cioè le prove fornite da israeli su quello specifico ospedale raccontano di una possibile o probabile promiscuità nell'utilizzo nei rapporti eccetera ma non decisiva allo stesso tempo dobbiamo metterci nei panni di israele non credo visto che israele per essere molto crudi la guerra mediatica la sta straperdendo come peraltro capita in 67 in poi più o meno le perde quasi tutte almeno potremmo togliere anche il quasi ma se attacca un ospedale attacca poi se interviene in un ospedale evidentemente ha un'idea di intelligence che qualcosa ci sia non può essere così autolesionistica né tantomeno sadica da voler colpire un ospedale in questo contesto davanti ad una narrazione in alcuni casi ad una diffusione di notizie riguardanti israele che sono tutte negative per lo stato ebraico dentro questa operazione quindi dobbiamo immaginare che ci sia stata una soffiata un rapporto un dispaccio dell'intelligence che raccontava quell'ospedale in una in un certo contesto e che l'anno hanno trovato ciò che cercavano noi ancora non lo possiamo confermare ma quello che stanno ottenendo anche gli stati uniti hanno detto più o meno lo stesso per quanto riguarda l'ospedale però senza nessuna capacità di poi di incidere realmente o sì o qualcosa che non vediamo e qui dobbiamo metterci d'accordo su quale sia l'obiettivo di israele e non è chiarissimo cioè nel senso qualcuno potrà obiettare beh siamo nella nebbia di guerra è quasi legittimo che non lo sia giusto a mi auguro lo sia per il governo netaniao e questo non è lampante cioè israele a parte che è frenata ed è in un rapporto definiamolo dialettico ma anche più complesso di così con gli stati uniti sul tema gli stati uniti sono molto preoccupati dall'occupazione eventuale di nuovo della sescia di gaza cioè il dibattito tra americani israeliani più o meno sono in questo modo gli americani con gli israeliani guardate che dopo l'attacco del 7 ottobre quindi dall'8 ottobre quando avete cominciato la reazione più o meno la vostra posizione tattica è stata scalfita perché la vostra deterrenza è stata umiliata oggettivamente da un'organizzazione paramilitare peraltro non come nel 73 quando erano eserciti di due paesi veri cioè l'Egitto e la Siria in questo caso un'organizzazione molto addestrata dall'Iran ma paramilitare sì però ricordate che sul piano strategico ciò che abbiamo costruito gli accordi di Abramo dal 2020 in poi che poi che vuol dire le principali monarchie del Golfo che si mettono sotto la gonna di Israele contro l'Iran questo rimane in piedi anche se l'Arabia Saudita che devo ancora firmare ha sospeso la trattativa ma è comunque un escamotage gli israeliani rispondono agli americani ma se noi non agiamo per distruggere il feo di Hamas al di là dell'aspetto della reazione emotiva agli ostaggi che peraltro è tutto legittimo anche se si fa l'accordo questo può accadere ancora questo è il tema israeliano no peggio e chiudo su questo gli israeli dicono gli americani e voi lo sapete molto bene dicono i loro interlocutori d'oltreoceano se noi non ripristiniamo la deterrenza quei paesi arabi che si sono messi vicino a noi contro l'Iran ci penseranno due o tre volte è impossibile che facciano un accordo con l'Iran perché è il loro principale nemico però si avvicinano all'Iran e nel negoziato diciamo che possiamo dire che quello che si deve misurare